Serata tra i cristalli all'auditorium di Città Studi di Biella, organizzata dal CAI con la collaborazione del gruppo speleologico di cui ricorre il cinquantesimo anno di attività. Giovanni Badino dell'Università di Torino ha regalato ai partecipanti un viaggio straordinario in uno scenario irreale oltre la fantasia. Un percorso all'interno della Grotta dei Cristalli nella miniera di Naica in Messico. Questa meraviglia sotterranea è famosa nel mondo per la presenza di grandi e purissimi cristalli di gesso risalenti a 200-300 mila anni fa, di dimensioni mai viste, sino a 10 metri di lunghezza e 2 metri di diametro. Una foresta di cristalli più grandi del pianeta, formati sott'acqua in un punto dove le acque termali profonde, calde, sono venuti in contatto con acque esterne fredde. La grotta, simile ad un geode, ha una temperatura di 50 gradi centigradi con il 100% di umidità e l'uomo vi può sopravvivere non più di 8 minuti senza un'adeguata protezione. Per questo motivo è stata approntata dalla detta Ferrino di Torino la speciale tuta La Tolomea, imbottita di ghiaccio, che protegge gli esploratori per oltre un'ora e mezza, consentendo loro di lavorare in sicurezza. La cavità è in corso di esplorazione da parte degli speleologi del Team La Venta, composta tra gli altri da Giovanni Badino di Torino e Tullio Bernabèi di Roma, che collaborano con ricercatori e scienziati internazionali. Un miracolo della natura scoperto per caso, fragilissimo e misterioso, che potrebbe andare perduto quando la miniera diventerà improduttiva e sarà abbandonata. La cavità si riallagherà, privando la conoscenza della più grande meraviglia sotterranea. Grazie a tutti.